In Alto Adige, oltre 600 agricoltori producono annualmente circa 75.000 tonnellate di frutta biologica, di cui una gran parte viene immagazzinata, lavorata e rivenduta dalla cooperativa Bio sui Tirol di lana. In occasione di regolari controlli eseguiti dal personale, negli ultimi anni è stata rilevata una maggiore incidenza della rugginosità, una malattia crittogamica. A volte già il contadino lo vede quando sta staccando le mele e a volte poi fuoriesce dopo che sono stati messi nella cela. Questa malattia colpisce le coltivazioni di mele convenzionali, ma soprattutto quelle biologiche. I coltivatori devono combattere contro una piaga le cui cause sono evidenti. Nell'integrato i danni sono sporadici, nel biologico sono presenti quasi tutti gli anni, certo a volte un po' di più, dipende un po' dalle varietà. Le varietà tardive, Prebern, Fuggi, Crips Pink, Pink Lady, praticamente sono quelle più attaccate assieme alle varietà considerate robuste o resistenti all'articolatura, perché queste varietà vengono trattate molto meno e perciò sono più esposte. Marcus Kelderer è responsabile del gruppo di lavoro per la frutticoltura biologica presso il centro di sperimentazione Leinburg, dove coordina alcune indagini sul campo. Gli scienziati stanno cercando di individuare, mediante irrorazioni mirate, le tecniche più efficaci per combattere questa malattia fungina. Un altro aspetto molto importante è di capire in campagna qual è il momento delle infezioni, perché questo se riusciamo a individuare bene i momenti di infezione e se riusciamo a trovare qualche prodotto efficace, allora il produttore sa e capisce in che momento deve intervenire. Attualmente i produttori trattano, si può dire settimanalmente, questo vuol dire per varietà tardive, dover fare una quindicina almeno di trattamenti a partire diciamo del luglio, luglio-agosto, insomma i produttori sono obbligati di tenere sotto copertura con dei fungicidi, anche se sono sempre fungicidi, anche se sono dei prodotti ammessi in biologico, tutta la stagione praticamente. Al centro di sperimentazione Leinburg la superficie delle mele colpita dalla ruggine viene spazzolata delicatamente a macchina senza danneggiarne la buccia, quindi viene lavata. Con questo semplice metodo è possibile ottenere buoni risultati a fronte di un'infestazione leggera. Il prodotto affetto da queste fumaggini non è da buttare via, va all'industria, però c'è una grossa differenza nel prezzo del prodotto che va al commercio fresco rispetto a quello che va alla trasformazione. Anche Angelo Zanella, responsabile dell'Istituto di Agricoltura Montana e Tecnologie Alimentari, si occupa da anni di questo fenomeno. Spesso i danni sono visibili solo durante il magazzinaggio nelle celle frigorifere. Frutti all'apparenza sani all'apertura delle celle possono essere ricoperti da una patina nera, poiché la crescita di questi funghi è fortemente favorita dall'elevata umidità solitamente presente nelle celle di stoccaggio. La fumagine è una combinazione di più microorganismi che si sviluppano in modo visibile negli ultimi giorni, nelle ultimi periodi prima della raccolta oppure anche durante la conservazione. non si crederebbe, ma durante la conservazione in celle molto molto fredde perché noi conserviamo all'incirca 1-2 gradi Celsius. Il gruppo di lavoro Biologia della Conservazione e del post-raccolta del Centro di Sperimentazione Leinburg è impegnato nello sviluppo di tecnologie volte a inibire la diffusione della rugginosità durante lo stoccaggio. Le mele conservate in una stessa cassa possono essere colpite dalla malattia in percentuale molto differente. Per questo è importante analizzarle attentamente per definirne con precisione il grado di infestazione. Noi possiamo vedere di distinguere quali frutti possono essere frigoconservati e quali no ed in più possiamo cercare di sviluppare delle tecnologie o dei trattamenti post-raccolta che facciano sì che questo danno non si sviluppi oltremodo. Per Angelo Zanella una cosa è certa, il metodo più efficace è la semplice riduzione dell'umidità nelle celle frigorifere. Qua la sfida è di avere un controllo dell'umidità che renda l'aria abbastanza secca che però non influisca negativamente sulla qualità organolettica. Quando si mangia il frutto insomma che non sia avvizzito alla fine, in parole povere o altrimenti anche con delle tecnologie fisiche, di fisica, che riescano a ripulire l'aria e che riescano a dare all'aria una qualità che controlli la crescita di questi miceli. Nonostante gli studi condotti nel corso degli anni, gli scienziati non hanno ancora individuato una valida soluzione contro questa infestazione fungina, ma non intendono mollare.